buongiorno a tutti dal vostro grande capitano napoli sempre forza napoli meno uno al liverpool napoli valevole per la quinta giornata del girone di champions league purtroppo per la situazione del napoli di come sta andando il campionato cinque partite consecutive senza vince e con la champions league il ritorno con salisburgo sei partite consecutive la difficilissima trasferta l'anfirode di questa girona si sapeva tra discorso di andata e ritorno era in assoluto la partita più difficile finora in champions league non abbiamo mai perso l'ars le liverpool scusate primissimo nel suo campionato purtroppo tutto lascerebbe presa gira ad una sconfitta del napoli la cosa che io chiedo alla squadra l'importante se dovesse succedere l'importante non è se perde ma in che modo perde comunque vediamo le probabili formazioni del napoli dovrebbe schiare un 4 4 2 sapete che insigne per un problema alla spalla braccio non è partito all'avambraccio e dovrebbe condizionale essere questo con 4 4 2 come retta in porta difensori centrali manolas e culibali a destra di lorenzo a sinistra mario lui i due esterni di centrocampo dovrebbero essere da una parte cali john dall'altra secondo me uno tra di gli schiunis i due di centrocampo allane fabieruzzi se dovesse recuperare dall'affetticamento muscolare il tandem d'attacco dovrebbe essere composto da lo zano mertes almeno che non si opti per un mertes in oriente una situazione molto difficile del napoli forse la più difficile la più delicata degli ultimi anni con l'allenatore in discussione la mutinamente le mutiche arriveranno una vera e propria polveriera una partita veramente molto difficile ma è una piccola speranza per remo non vana quanto sei molto si può dire demoralizzato che dai quasi per scontata la sconfitta del napoli non si sa mai che sfogliere una prestazione clamorosa staremo a vedere e questo è per farci ripartire bene anche in campionato ovviamente l'unica cosa che si può fare staremo a vedere mettete un bel like a questo video chi non si è ancora iscritto al mio canale iscrivetevi iscrivetevi al mio canale sempre e comunque forza napoli nella buona e nella cassiva forte nella cattiva sorte scusatemi sempre e comunque solo forza napoli ciao